salve a tutti amici di non solo casio torniamo oggi a parlare di sigari del mondo dei sigari e lo facciamo con l'ultima novità uscita proprio in occasione del natale da parte del moderno del sigaro italiano e cioè l'ambasciatore italico superiore piramide ogni anno ambasciatore italico più o meno nel periodo di natale o poco prima comunque del natale fa uscire l'edizione limitata del superiore quest'anno la particolarità però mentre negli anni passati come posso far vedere anche qui perché l'ho preso giusto per averlo sott'occhio avevamo la versione superiore barricato cioè un superiore affinato in botti barricche che dava un gusto per così dire ancora più dolce a questo sigaro ma sempre in formato bitroncoconico comunque il classico formato dei sigari italiani di Kentucky quest'anno la particolarità stavo dicendo è appunto che si è andati su un sigaro invece con un formato del tutto inedito per i sigari italiani che per l'appunto è il formato piramide formato piramide che normalmente è utilizzato più per i sigari caraibici per i sigari cubani che non per i sigari italiani è la prima volta che appunto abbiamo questa tipologia di formato quindi partiamo da una considerazione veramente di prezzo è un sigaro che sicuramente è innovativo da un punto di vista del formato è venduto in cofanetto cofanetto da 10 sigari al costo e qui forse la nota si fa un po' dolente perché comunque credo che sia abbastanza esoso come tipologia di sigaro siamo sui 50 euro per la scatola da 10 per carità ci sono sigari premium italiani che costano anche di più basta andare a vedere il toscano della toscano di mst il millennium se non vado errato costa forse sui 10 euro per un sigaro qui siamo sui 5 euro per un sigaro che comunque non è poco comunque andiamo a vederlo andiamo a osservarlo ad aprirlo ho a parte questa scatola che lo avvolge avvolge il cofanetto in cui possiamo leggere italico superiore piramide fasciato a mano quindi è fatto a mano non a macchina e questa è un'altra novità rispetto ai sigari di mosi che normalmente sono tutti smacchinati sono tutti fatti a macchina che si parli del buttolo del classico del superiore stesso in edizione normale che è questo qui giusto per ricordarvelo in scatola da 3 questo è fatto a mano edizione 2018 sigari e ambasciatori italico superiore selezionati e fasciati interamente a mano con una lunga maturazione e una forma piramide tra l'altro questo è un sigaro che si appunto fatto a mano ma ha una particolarità ha una doppia fascia doppia fascia che non è la prima volta che si vede in sigari italiani la prima volta se non vado errato si è vista nel toscano stil novo toscano stil novo anche esso in edizione limitata fatto da mst che però secondo me ma non solo secondo me è stato un sigaro a dir poco disastroso io ricordo che era un sigaro totalmente ignifugo e non perché era appena uscito e fresco ma perché evidentemente la doppia fascia lì svolgeva un ruolo che era evidentemente negativo influivo in maniera negativa sul sigaro comunque andiamo torniamo a parlare del piramide vedete la scatola con scritto lateralmente edizione 2018 ambasciatore italico superiore piramide con questa texture che ricorda vagamente i tessuti sartoriali ambasciatore italico scritto sul fronte e andiamo ad aprirlo allora ecco i sigari innanzitutto ma qui vediamo superiore piramide fasciato a mano sempre con una texture che ricorda quella lì del tessuto ma in questo caso più color del legno e qui abbiamo i nostri sigari ambasciatore italico superiore piramide qui abbiamo tutta una lunga descrizione che io vi leggo giusto perché così sappiamo di che sì che lo stiamo parlando perché è fatta molto bene e la cosa che ci tengo a sottolineare è che comunque appunto l'anno 2018 essendo edizione limitata vediamo che la scatola è numerata questa è la 2440 comunque andiamo a vedere che cosa ci dice questo foglietto che è all'interno della scatola selezioni di sigari ambasciatori italico superiore con un formato innovativo piramide realizzati grazie alla profonda esperienza del nostro master blender che per chi non lo sapesse è domenico napoletano per esaltare al meglio le caratteristiche organolettiche del sigaro italiano il sigaro dopo essere stato rollato per la prima volta con l'ausilio dei nostri storici macchinari viene fatto microfermentare per almeno tre mesi con una sottofascia di tabacco kentaki del Tennessee quindi nordamericano e successivamente viene fasciato interamente a mano nelle nostre sigarae utilizzando una selezione di foglie di tabacco kentaki della Valtiberina quindi stiamo parlando di un ottimo kentaki dopo la fasciatura i sigari sostano per ulteriori 12 mesi nelle celle di maturazione da questo ne deriva appunto che è un sigaro dalla maturazione lunga la miscela del sigaro ambasciatore italico superiore piramide si contraddistingue per il suo gusto equilibrato è una complessa palette aromatica e la fascia esterna di tabacco kentaki della Valtiberina avvolta al rinomato tabacco kentaki americano arricchisce il sigaro di ulteriori aromi accompagnati da vivacità di gusto unico e la forma piramide consente di dare un verso al sigaro accentuando l'evoluzione aromatica della fumata mi soffermerei su quest'ultimo punto appunto l'innovazione del formato cioè questo formato piramide tiriamone fuori uno così lo vediamo ed eccolo qui vedete non è un classico sigaro bitronco conico è un sigaro con la forma piramidale cioè finisce a punta e qui è chiuso quindi cosa vuol dire? che quando noi lo andiamo a fumare dovremmo tagliare una porzione cioè all'incirca un centimetro un centimetro e mezzo di sigaro per poterlo andare a fumare altra particolarità altra novità di ambasciatore italico in questo caso sta nel fatto che è il primo sigaro che ha la fascetta è un sigaro con la fascetta e questa è una novità assoluta per il marchio ambasciatore italico poiché nessuno degli altri sigari che produce in mosi ha la fascetta comunque andiamo a parlare del sigaro oggettivamente si presenta molto 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 bene molto bello una fascia che è molto scura direi un tonaca di frate come colorazione e lucida come si può anche ben vedere dal sigaro che ho in mano allora a crudo a parte qualche piccolo eco legnoso devo dire la verità io non sento non sento particolari sentori non è un sigaro che profuma e promette così a crudo la promessa però anche se non c'è all'inizio spesso a volte ci sono sigari che a crudo promettono chissà quale fumata e poi una volta accesi deludono deludono tanto in questo caso qui invece è un sigaro che a crudo non emana chissà quali profumi ma una volta acceso regala una fumata molto molto particolare perché particolare perché effettivamente nella prima metà ecco per così dire della fumata dicendo anche comunque come è stato sottolineato qui dalla descrizione è un sigaro che ha un verso quindi non va chiaramente tagliato e fumato e acceso da questa parte ma sicuramente da questa parte qui evidentemente anche per il suo formato piramidale regala una fumata scusate particolare perché nella prima metà stavo dicendo è una fumata piuttosto consentitemi il termine fresca con dei sentori che sono molto leggeri quasi floreali molto particolari sì con dei rimandi sicuramente anche al legno però è una fumata abbastanza abbastanza fresca non il classico Kentucky si trasforma questo sigaro nella fumata classica più verace di Kentucky per quanto comunque si parla sempre di un superiore quindi un sigaro che è rotondo non è mai spicoloso non è mai aspro nella seconda metà della fumata però sto dicendo si trasforma in un sigaro più verace più diciamo che rivela quelli che sono i sentori del Kentucky al contrario di quello che avviene appunto nella prima fumata quindi è un sigaro sicuramente valido è un sigaro sicuramente molto buono con una fumata che ovviamente in questo caso qui come non avviene per altri sigari di Kentucky non può essere ammezzata quindi è una fumata che va fatta per intero questo sicuramente lo rende un sigaro consentitemi passatemi il termine un po' da occasione cioè nel senso non è un sigaro sicuramente già per il costo da fumare tutti i giorni ma a maggior ragione per il formato cioè è un sigaro che richiede un attimino di di pazienza in questo senso quindi un attimo di tempo c'è bisogna avere un po' di tempo per poterlo degustare non è un sigaro che va acceso così è fumato spensieratamente non voglio dire che sia da meditazione per carità non lo considero da meditazione però richiede un attimo di attenzione in più magari che cosa che cosa dire in più di questo sigaro è un sigaro che vale il prezzo che viene pagato allora secondo me un po' sì nel senso che tra packaging ma non si fuma ovviamente il packaging si fuma il sigaro però il packaging merita veramente molto sono 10 sigari 5 euro a sigaro come tipologia di fumata sicuramente è innovativa per il formato quindi io direi che ci può anche stare certo qualora fosse costato 40 euro sarebbe anche stato meglio ma non per i 40 euro in sé ci poteva anche stare che costava un pelino di meno però la novità in questo caso è secondo me quella che si paga la tipologia di sigaro che viene proposto è sicuramente innovativo rispetto a quello degli anni passati e comunque innovativo nel campo del Kentucky italiano cosa dire in più è un sigaro dalla forza comunque la nicotina sicuramente c'è però non è smudata non è eccessiva si fa sentire di più nella seconda metà che non nella prima metà e comunque non è mai in questo senso soverchiante cioè non va mai oltre un limite certo se non si è abituati potrebbe risultare un pochettino più forte ma mai nulla di eccessivo allora questo sigaro effettivamente rispecchia comunque quello che è il Kentucky più rotondo e per certi versi da un gusto che è più dolce quindi chi è amante di ambasciatore italico a chi piacciono i sigari di ambasciatore italico io questo sigaro mi sento vivamente di consigliarlo anche se costa quello che costa a chi magari avvezzo più a sigari più forti più aspri per così dire più spicolosi meno rotondi magari potrebbe risultare un pelino più passatemi il termine un po' più stucchevole potrebbe annoiare un po' di più per quanto comunque è un sigaro che ha un'ottima progressione quindi annoia potrebbe annoiare ma fino a un certo punto certo non è come fumare un classico superiore cioè mi riferisco ribadisco a questo sigaro qui che magari alla lunga può anche stufare per motivo per cui io comunque l'ho ammezzo l'ho anche fumato intero ma all'intero questo mi annoia questo qui se si è obbligati a fumarlo intero perché non può essere ammezzato ripeto ma ha una buona progressione quindi in questo senso non annoia diciamo risponso finale che posso dare su questo sigaro lo consiglio io sinceramente mi sento di consigliarlo capisco che costa costa abbastanza perché 50 euro sono tanti per dei sigaro italiani però qua secondo me si paga da un lato l'innovazione e dall'altro comunque la qualità che non si può negare c'è cari amici di Don Solo Casio per questo sigaro italico superiore formato piramide è tutto fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate se se l'avete acquistato se vi è piaciuto se siete intenzionati ad acquistarlo se volete dei consigli io sono sono qui insomma anche anche per questo alla prossima che sono qui Grazie a tutti